Ragazzi, so che per voi è difficile ed è una tortura vedere video di questo tipo, per favore stringete le chiappe, vediamo questi maledetti drammi e poi guardiamo video serie, ok? Vediamo cos'ha da raccontarci quest'oggi Twitter. Questa influencer è diventata virale per diverse clip in cui si vante di avere delle idee estremamente negative sui uomini, praticamente di detestarli, addirittura dicendo che se avesse un figlio maschio cercherebbe di renderlo gay oppure trans perché i suoi pregiudizi contro i maschi etero sono troppo forti. Guarda, ti dico, potrei essere d'accordo dopo aver letto tutti i commenti su TikTok, sui miei video, però dopo aver letto comunque tutti questi commenti così, non sono d'accordo. Come può arrivare a dire una roba del genere? Ma andiamo avanti. E anche un video è diventato virale di recente in cui dice come tutti gli uomini a quanto pare sono il vero problema di tutte le community del mondo del gaming e non solo. E per tutte queste assurde dichiarazioni per le quali si aspettava di ricevere consensi, in realtà è stata... Possiamo dire che però una parte... Cioè, se dice così, certo, lo sta dicendo in maniera un po' amplificata e esagerata, però si parte da una base di verità. Nel senso, su tantissimi giochi, i ragazzi in generale sono super tossici nei confronti delle ragazze, ma non solo nei giochi. Guardate anche nei commenti, avete visto? Una ragazza che guarda le macchine, che guarda MotoGP, che guarda Formula 1 e sta imparando le cose, letteralmente perché è palese che sta imparando... Eh no, pov donna. E quelle cose lì, no? Tossicità. Io li denuncio tutti quanti. Totalmente distrutta dal web, subendo anche delle conseguenze piuttosto negative. In questo video guarderemo proprio quello che è successo, facendoci due risate sulle assurde dichiarazioni di questa tizia. Come si può notare però, nel numero di iscritti, abbiamo superato i 200.000 e per questo ci tengo davvero a ringraziarvi di cuore tutti quanti per l'incredibile supporto e questo traguardo che abbiamo raggiunto tutti insieme. Ma tornando alla nostra amica, la prima cosa da fare è il personaggio per capire chi è. Lei è una streamer di Twitch, da quello che ho visto noto che porta molto spesso Valorant come gioco, e oltre ai suoi gameplay, lei piace spesso condividere le sue opinioni. Ed è da qui che sono iniziati i problemi. È infatti pubblicato un video intitolato Gli uomini sono il problema della gaming community. Che è un video totalmente ridicolo e per questo è diventato super virale ed è stata distrutta nei commenti. Ma prima ci guarderemo una sua clip completa in cui ci spiega perché le farebbe schifo avere un figlio maschio che lo dovrebbe indottrinare. Ascoltiamo. Non è un po' al contrario per i ragazzi, ho notato che spesso dicono che l'incubo peggiore per loro sarebbe avere una donna, una figlia femmina. E guardate le ragazze cosa dicono, per loro l'incubo peggiore sarebbe avere un figlio maschio. Ho comprato una BMW con i soldi dei miei haters, sarebbe veramente figo. Com'è il titolo del video. E fino a qui il discorso ci può anche stare, fa bene avere una preferenza per una figlia femmina o un maschio. Niente di strano ma ascoltate quello che dice ora. Ma dove trova sti video tweener? Io me lo immagino tipo che non dorme il giorno e la notte, cerca tutte queste cazzate per poi farci il video sopra. Allora, non vuole avere un figlio maschio perché ha paura che potrebbe diventare... Ra, a proposito del messaggio Jack che hai scritto, titolo del vlog, vlog da Monte Carlo per la Formula 1 e incontrare i miei due ragazzi. A proposito dei miei due ragazzi. Ho visto un'intervista di Lando Norris in cui gli chiedono, adesso non mi ricordo di preciso cos'è, con me che glielo chiedono, ma è un tipo, hai una ragazza? E lui non risponde e gli chiedono tipo, hai più ragazze? E lui dice sì. Che schifo. Ricchi, belli, famosi. Tutte le ragazze li vogliono e loro possono scegliersi quello che vogliono così. Oggi con questa, un altro giorno con quest'altra. Che brutta storia. Guarda, ti dico, è più bello come se la sta vivendo Charles Leclerc che ha la ragazza, ed è quella e basta. Che poi ovviamente non lo sappiamo cosa fa, no? Nella sua vita privata, magari anche lui ha altre tre ragazze. Però cazzo, così deve essere. Cioè non è vero, non per forza deve essere così. Può essere anche una relazione aperta, però è brutto. Io non ho due mariti. Vedi, non ho l'anello, cazzo. Né uno, né il primo, né il secondo, ancora. Ha le fidanzate per la settimana. Sembra proprio la tipica vita di un riccone super mega famoso, giovane, ovviamente, che si diverte un bel po', un bel po', sì. Secondo me è ironico, ma non lo so, sai. Anch'io ero il fidanzato del martedì all'asilo, ma che cazzo. Misogino e non c'è nulla che possa farci. Forse ha dimenticato la parte in cui lei è letteralmente la madre di questo bambino e quello che può fare è tipo educarlo. È vero che sicuramente sarà influenzato anche da ciò che vede online o da altre persone, questo è palese. Ma alla fine l'educazione viene insegnata soprattutto dai genitori. In ogni caso non capisco come mai sia così preoccupata dall'idea di avere un figlio maschio che diventa misogino, ma non di una figlia femmina che diventa misandrica. Perché tutte e due le opzioni sono possibili e tutte e due sono molto negative. Immagina avere una figlia misandrica che odia gli uomini e diventa una streamer che si mette a dire online che se avesse un figlio cercherebbe di indottrinarlo per farlo diventare trans oppure gay. Ah no, queste sono cose che già dice lei in questo momento. Ma perché tweener fa sempre i video che sono... Non so neanche come definirli, ma spesso prende delle ragazze e fa passare come... Tutte le ragazze come se fossero delle psicopatiche e quello che dicono sia sbagliato. Cioè proprio un... Si va a finire sempre strana all'estremo. Parla mai di quello che combinano i ragazzi? O... Sì, no, credo di no. Sarà molto raro. Prende i trans, prende le ragazze che esprimono le loro opinioni che sono sbagliate, esagerate, ma di base c'è un pensiero ben logico. Cioè ha senso del perché. Dicono così. Ma i video sui ragazzi non ne ho visti tanti. Vabbè che io non guardo spesso i suoi video, però mi piacerebbe vedere i video in cui... Al posto di una ragazza, come in questa situazione ci fosse un ragazzo. Buonasera Pistacchio. Io ho delle ipotesi ma non voglio far partire una rissa. Vabbè, tu puoi esprimerle in santa pace, tranquillità. Ma che poi una live di una ragazza che gioca a Valorant magari sta esagerando apposta nel dire queste cose. Perché bisogna prendere sul serio le cose che dice. Che poi questo ragionamento, per quanto sia già fuori di testa, preso così, non ha veramente senso da nessun punto di vista. Perché se la sua paura era avere un figlio misogino, in che modo il suo orientamento o l'essere gay dovrebbe impedire questa cosa? Cioè potrebbe essere comunque gay e misogino. O anche da trans. Senza parlare poi del fatto che essere misogino probabilmente potrebbe non essere il peggior scenario possibile. Cioè potrebbe anche diventare un serial killer, quel figlio. Ma a quanto pare per lei, finché erano un maschio etero, è tutto a posto. All'inizio avevo solamente visto la clip di circa 10 secondi dove diceva che se avesse avuto un figlio maschio l'avrebbe indottrinato dal giorno zero. E in quel momento avevo voluto credere che fosse ironica. Ma dopo aver visto la clip completa, diciamo che non le fa un gran favore a migliorare questa posizione. Ma questa era solamente una delle geniali uscite della mia nuova streamer preferita. Infatti il video che ha pubblicato di recente, di cui vi parlavo, è questo e l'ha messo su Twitter. Questo tweet ha poco meno di 7000 like. Ok. Ma quasi 9000 commenti e 3000... Raga, se facciamo veramente che io inizio a commentare le BMW e le Audi in maniera negativa e poi posto queste clip, vuoi vedere che finisco in un video di tweener? Per qualche motivo? Una streamer insulta le auto, le BMW e le Audi viene distrutta dal web. 600 citazioni e un buon 90% sono totalmente negative e viene cucinata in quella sezione dei commenti. Ma tra un attimo ci arriveremo leggendone qualcuno. Prima però direi che ascoltiamo le parole. Ma non ti aveva scritto anche qui, non dove? Non dovrei giocare a un gioco dove dico ciao e tutto il gioco è rovinato perché gli uomini sono emotivi. Questo non è normale e questo non è come erano i giorni vecchi dei codi, perché ho promesso a te che come un uomo non hai mai avuto qualcuno per la base del tuo giovane. Questo non succede. Puoi dire che succede? Sì. 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 Allora quello che ha detto è la verità al 100%. Non vedo nulla di sbagliato in quello che ha detto. Che tipo gli hai dato qualche consiglio su come editare e fare i video e lui tipo ti ha detto grazie? Eh, quando? Ma che stai dicendo Leo? Veramente? Quando? Quando? Non ho capito. Il penultimo video è il tizio degli atti osceni al distributore di benzina. Twinner giusticamente lo critica pesantemente. L'ho visto, l'ho visto. Tra l'altro nei prossimi... Fra due o tre giorni uscirà sul mio canale YouTube delle reaction. Buonasera, Corraz. Non eri nel suo gruppo per insulti tra dillo senza piangere, Twinner, uomo insetto senza piangere? No, io non sono nel gruppo di Civo per trollare l'altra volta che mi piacerebbe entrare nel gruppo degli YouTubers che fanno il commentary. Ti prego, fate distruggere dal web per una cagata, please. Devo veramente esagerare in quello che dico per farmi distruggere. No, Vic, l'altro giorno ci voglio anch'io entrare. Ah, sì, vabbè, era per trollare, cosa me ne frega. L'unico canale commentary che ogni tanto viene in chat da noi è Sbortus, raga. Dai, mi cancel, facciamo i poster. Una cosa che noto che succede molto spesso in questi video di ragazze che si lamentano di come vengono insultate nel mondo del gaming e che spesso fanno video dove si lamentano che le hanno lette di tornare in cucina o altri insulti stupidi di questo tipo dicendo che è solamente... No, aspetta, aspetta, cosa dice? ...dove si lamentano di come vengono... Allora, una cosa che noto che succede molto spesso in questi video di ragazze che si lamentano di come vengono insultate nel mondo del gaming e che spesso fanno video dove si lamentano che le hanno lette di tornare in cucina o altri insulti stupidi di questo tipo dicendo che è solamente a loro in quanto donne viene detto e vengono attaccate solamente perché sono donne. E come risposta ovviamente gli uomini le dicono che in realtà tutti vengono insultati e che non è che ce l'hanno con loro solamente... Lo picchierei se potessi, Twiner, in questo preciso istante perché dice le robe e le rigira come le fa comodo a lui, veramente, Twiner, mi stai sui coglioni. I tuoi video sono belli ma a volte veramente... Ma che cazzo dici? Cioè, secondo me Twiner è il master del gas, del gas lighting. È il manipolatore seriale. Veramente, Twiner il manipolatore seriale. ...in quanto donne. E la risposta che viene sempre data e che dice anche lei in questo caso... Cioè, è letteralmente quello! Perché lui sminuisce quello che dicono... Che in questo caso dice questa ragazza e dice... No, però aspetta! Non è che vengono insultate soltanto le donne, torna in cucina, fammi un panino e bla bla bla. Tutti vengono insultati nei videogiochi. Ma grazie al cazzo! Ma la ragazza si riferisce al fatto che appena apre la bocca e dice A in voice chat, in un gioco simile, le viene detto Troia, puttana, torna in cucina, vai a lavare i piatti, fammi un panino. Queste sono le cinque cose che vengono dette appena una ragazza apre la bocca in voice chat. In questi giochi di merda. Anche i ragazzi verranno insultati, ma vengono insultati nel momento in cui fanno cagare nel gioco. Sono due cose diverse. Se bisogna specificarle, specifichiamole bene. Il caso è che è impossibile perché agli uomini non viene detto di tornare in cucina e così via. Ecco, quello che lei non riesce a capire è che quando le viene detto che anche gli uomini e tutti gli altri vengono insultati, non stanno dicendo che anche a loro vengono detti gli stessi identici insulti. Il fattore comune è che tutti vengono insultati o presi in giro. Se sentono che hai una voce femminile, faranno battute su quello. Se sei un maschio ma hai una voce molto infantile, faranno battute su quello e così via. Limitarsi a dire che agli uomini non viene detto di tornare in cucina, quindi solamente le donne vengono insultate, è veramente stupido. È come se un ragazzo nero dicesse che solamente lui è vittima di razzismo online. Un ragazzo asiatico gli dice che in realtà anche lui viene insultato e l'altro gli dice no, è impossibile perché non ti hanno mai chiamato con la n-word, quindi non è successo. Sì, ovvio che non l'hanno mai chiamato con la n-word, ma hanno usato altri 3.000 insulti diversi che però te non hai ricevuto. In realtà sì, è assolutamente sessista dire che ogni spazio maschile è tossico e la conferma si può avere provando a dire come ogni spazio femminile sia tossico e osservare come la gente perderebbe la testa con accuse di misoginia, eccetera. Ma per il primo punto di cui stava parlando, cioè che tutti gli spazi maschili sono così tossici, allora perché ci tieni così tanto a farne parte? Ma è... non ti voglio offendere, Twiner, ma che problemi hai? Che vuoi entrare a far parte di uno spazio che ti finisci tossico? Ma che problemi hai? Il gioco dovrebbe essere per tutte? Adesso se ci sono figli di puttana che insultano adesso non devo più stare là? E non sicuro. A questo punto creati il tuo spazio e rimani lì. Ho perso il conto di quante volte hai detto far sentire le altre persone non al sicuro. Mica andiamo a prendere Twiner, io lo tengo per le gambe, tu per le braccia e tiriamo. Questo messaggio è bello. Una tortura. Finceramente una retorica che mi ha davvero stancato perché vanca a sminuire chi realmente online viene minacciato, stalkerato o peggio. Twiner, per favore, per favore, non dire ste cazzate. Ci sono delle volte in cui i suoi video sono belli, hanno anche senso, ma in questo preciso istante sono super contro qualsiasi cosa lui dica in questo video. Perché? Perché lui non è una ragazza e sminuisce completamente quello che provano le ragazze online. Possiamo smettere di fingere che un ragazzino di 12 anni che sta giocando alla Playstation, nella sua cameretta, con le mani unte di patatine, che ti fa una battuta dicendo di ritornare in cucina, è una minaccia per la tua sicurezza? Se dovessi contare il numero di volte in cui qualche ragazzo... Ma perché deve sminuire le cose e metterle da questo punto di vista? Non sta parlando di... Ragazzino, mi ha insultato un minacciato in un gioco online solamente perché ha perso. Probabilmente a questo punto penso che sarai morto e risuscitato un centinaio di volte. Soprattutto perché l'unica cosa che devi fare per fermare questa minaccia pericolosissima al tuo corpo e alla tua vita è cliccare il tasto multa questo giocatore. Che tra l'altro è ancora più ironico il fatto che questi discorsi dove fingono di essere così empatici e latenti a non ferire i sentimenti di nessuno, molto spesso, come in questo caso, vengono fatti la gente che è la prima a insultare gli altri, come nella clip dove diceva che disprezzava talmente tanto gli uomini che se avesse un figlio maschio cercherebbe di indottrinarlo per diventare trans. Ok, questo discorso è veramente fantastico. Appena fatto un discorso delirante su come gli uomini siano il problema del gaming, generalizzando su come tutti gli spazi maschili facciano schifo e se ti azzardi a dire che non sei d'accordo con lei sei parte del problema. Quindi o sei un uomo le dai ragione e quindi ammetti che in quanto uomo... Cazzo, potrebbe fare un video in cui cerca di capire le cose dal punto di vista di lei piuttosto che completamente andarle contro e le cose migliorerebbero. Ci sono letteralmente... Magari lei tra l'altro dice le cose in maniera esagerata o quello che è, però è la verità. Quello che dice ci sono per ora quasi 51.000 visualizzazioni. Se Twitter dicessero le cose in maniera diversa, cercando di capire il perché vengono dette determinate cose, riuscirebbe di quelle 51.000 persone che hanno visto il video, non so, almeno alla metà magari, a un terzo di persone che hanno visto, magari avrebbe fatto queste persone pensare in qualche modo. Invece no, alimenta ancora di più questo odio, queste cose. Io ve l'ho sempre detto, quando lui racconta le cose nei video, sembra che soghigna. Come se si stesse divertendo nel seminare odio e rompere il cazzo. Neanche lei ha molta ragione, ma non è questione di chi ha ragione o torto, è questione di capire il punto di vista di lei. Magari è esagerato nel dire che se avessi un figlio vorrei che fosse gay o trans e quelle robe lì. Ma queste sono cose esagerate che le persone dicono quando arrivano alla... Quando arrivano al loro, come si dice, al loro punto... Quando non ce la fanno più, no? Che si sono rotte il cazzo. Esagero in questo modo. Uomo, sei parte del problema, oppure non sei d'accordo e per questo sei comunque parte del problema. Praticamente ha ragione a prescindere. Una logica davvero inattaccabile. Complimenti. Ma adesso passiamo alle disastrose conseguenze di questi video. In questi giorni, infatti, questa ragazza ha pubblicato uno screen di un ban di 14 giorni da Twitch. Sappiamo che Twitch è sempre molto vago con queste sanzioni. Addirittura! E il motivo che hanno dato sarebbe per discorsi d'odio. Ma quello senza dubbio più interessante è leggere i commenti sotto il suo post dove è stata cucinata malamente. Per esempio, questa risposta ha quasi tre volte i like del video e hanno scritto questo. Se vuoi essere parte di una community, smettila di cambiare quella community. Gli uomini nei videogiochi vengono presi di mira per tutto, compreso il loro genere, la differenza e che capiscono che è una battuta e si divertono e va. È vero, le ragazze sono anche molto sensibili, emotive e non spesso sanno stare al gioco. Che poi, questo non è un gioco perché le insulti che ricevono ci sono di base. Ragazzi, se seguite delle robe tipo di video su TikTok, le clip per quanto riguarda Valorant, o Codo, quelle robe lì, avrete visto quante volte vengono insultate appena aprono la bocca. Solo perché sono ragazzi. Aia, mi è venuto un crampo al piede. Ah! Aia! Però, non mi ricordo più cosa voglio dire, aspetta. Ecco, sì, sarebbe bello se riuscissero a farsi scivolare le cose di dosso più facilmente, no? Sarebbe tutto più semplice. Vabbè, è un rincoglionito che mi insulta, va bene, ma chi se ne frega, no? Ma se la prendono, perché appunto sono ragazze e... E ti senti chiamata in causa. Ogni volta, tra l'altro, alla stessa maniera. Eh, woman. Solo perché sei una donna. Cioè, lo capisco, io lo capisco benissimo. Che poi può essere esagerato, come dice le cose. Sì, ha estremizzato il pensiero, anche. Però di base c'è una certa logica. Ma noi nella chat di classe abbiamo lo sticker di woman nella tassa e quando lo mandiamo le ragazze dalla nostra classe se la ridono. Eh, ma perché... Sarà anche la classe, che forse siete tra di voi, di queste battute ci stanno. Anch'io una volta, in live, mi ero detta, vado in cucina, ti faccio un panino, c'è queste cose qua. Lo dico, ma dipende. Quando e come? E chi lo dice, no? Basta, hai un pulsante per mutarli e bloccarli. Molto breve e conciso. Un altro invece ha pubblicato questa immagine, che sicuramente gli ruberò perché è davvero ben fatta, e l'ha intitolata Il ciclo della diversità. Inizia con la richiesta di includere più persone in uno spazio per renderlo più inclusivo, poi con le richieste di cambiare completamente quello spazio, bannando chi non piace ai nuovi membri e li offende, e infine sono gli altri che vengono cacciati da quello spazio. Ci sono tantissimi commenti dove dicono che chi si comporta come lei in realtà è il vero problema della community, e altre migliaia di commenti di questo tipo dove viene blastata. decisamente non il tipo di reazione che si aspettava, ma in ogni caso per questo video penso proprio che sia tutto. Mi raccomando. Sono curiosa di vedere chi erano le persone che commentavano e la blastavano. Sarebbe bello se ci avesse fatto vedere i commenti. Sarei curiosa anche di vedere se erano le donne anche che erano contro di lei o soltanto gli uomini. Fatemi sapere la vostra opinione nei commenti, se anche secondo voi gli uomini... Ho espresso la mia opinione. Ma se vengono insultati anche gli uomini nel gaming non avrà mai sentito una chat di code, eccetera, mi sa. Mai chiuso mia... Ok, mai chiuso... Questo va internato subito e completamente scollegato dalla realtà. Ormai il vittimismo è diventato arma di oppressione. Lei non viene attaccata perché è donna, ma perché è lei. Credo che certa gente non deve neanche per sbaglio avere una connessione all'internet se dopo dice tutte queste stupidaggi. Ma avrà 15 anni questo? Cosa vuoi che capisca? Ma le donne sono quelle che preferiscono lavorare con gli uomini piuttosto che dover condividere il posto di lavoro con altre donne. Secondo quale pensiero? Chissà perché, chissà perché non se lo chiede. De pensante totale. Una parola che ho imparato dai video di tweener, questo qua. Per questo tipo di persone quando fanno questi discorsi ho adottato un vecchio slogan di Mediaset. Corri nel bosco in tutta fretta c'è un orso che ti aspetta. Ma queste donne che odono gli uomini sono lesbiche o non hanno il minimo interesse per il sesso? Giusto per capire perché è allucinante ciò che sta succedendo in un momento storico dove ci sono cose più importanti da pensare, una cosa a caso. Una possibile terza guerra mondiale nucleare che può scopriare da un momento all'altro sperando di no. Che stupidità, tutto quanto.